La faccenda del super bonus dopo il decreto del governo continua a far discutere ovviamente anche a livello locale con la ricostruzione in corso. All'Aquila c'è il doppio problema dei cantieri fermi per il blocco della cessione dei crediti che si aggiunge a quello dei cantieri che hanno optato per il 110% a posto del contributo per la ricostruzione. Diciamo che non c'è tantissima chiarezza al momento e si susseguono incontri e riunioni. Al momento però sembrerebbe che il cratere 2009 e quello 2016 sarebbero fuori dal decreto perché non vengono citati. Lo stop alla cessione del credito operativo dal 17 febbraio per ora dunque non dovrebbe toccare la regione Abruzzo ma si ribadisce non c'è chiarezza. Sul tema insomma c'è molta confusione tant'è che se ne è parlato anche il consiglio comunale. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato un ordine del giorno. In apertura però anche il consigliere Stefano Palumbo aveva chiesto la convocazione del tavolo tecnico che si era deciso di fare sull'argomento. Le intenzioni del governo fossero quello di rivedere completamente l'impianto del super bonus era chiaro già dal provvedimento del primo decreto di novembre tant'è che nel consiglio comunale del 5 dicembre mi sono fatto promotore appunto di portare in consiglio comunale un ordine del giorno poi votato all'unanimità da tutto il consiglio che tra l'altro impegnava il sindaco alla convocazione di un tavolo con tutti i referenti tutti gli ordini professionali le categorie proprio per cercare di mettere al riparo l'area del cratere da tutta una serie di limitazioni che poi sono state ulteriormente appesantite perché sappiamo bene come la nostra realtà nel combinato disposto del super bonus con la ricostruzione presenta delle peculiarità. Molte persone hanno rinunciato al contributo della ricostruzione per poter accedere al super bonus e quindi adesso si ritrovano con i piedi diciamo con una situazione del tutto precaria nell'incertezza e abbiamo il dovere appunto di risolvere e affrontare questa situazione con la richiesta di attenzioni particolari per il nostro territorio. Grazie a tutti.